disposto e capelli Ciao, ciao, grazie di essere qui, 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 con me oggi, grazie di aver scelto me per prenderti questo momento di pausa, rilassarti o anche addormentarti, oggi voglio fare un video della serie Il mio video perfetto, per chi non sapesse cosa intendo, il mio video perfetto non è io che pretendo di girare un video perfetto, ma un video che la me ascoltatrice di video smr riterrebbe perfetto da ascoltare e da vedere, quindi è tutto qui, ciò che io considero perfetto da guardare cominciamo con questo tono di voce che è quello per me più perfetto di tutti voglio farti annusare questo olio essenziale alla citronella ne metto due gozze sulla mano incredibile e adesso ti chiedo di chiudere gli occhi un attimo e annusare forte ancora ancora l'ultima volta l'ultima volta ancora un po' anche ancora un po' anche più ma mi rilasso tantissimo mi rilasso tantissimo mi rilasso tantissimo adesso possiamo cominciare dei suoni che mi fanno impazzire e che trovo estremamente delicati e anche belli da vedere lascio spostare il microfono sono quelli appunto dei ceielli, delle collane, degli orecchini e cominciamo da questi ti mostro come prima cosa ho fatto un po' di zoom questa collana ne ho tre indosso oggi io proprio sono dipendente da questo suono la prima è questa è una catena una catenella con delle pietrine andiamola così dai cubetti letteralmente irregolari e il brand è calie gioielli anche questo orecchino e questa catena sono di calie gioielli questo no invece e anche questo cucchino è una catena 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 la seconda collana non sei se capito mai non so se si capito ma io amo gli show in tell lenti 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 questa questa con lana colorata con questi pallini da rosa al viola all'azzurro e con la G di Chiara e di Chiara e di Chiara o duele scrive J J J J R N E R T R G J 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 E la trovo adorabile Anche quella che indosso spesso con il cornetto e la mano che fa lo scongiuro è sempre di questo brand La terza E' di Pure Light E' bella fondissimo anche cambiare collane e fare le combo, bellissimo per me Ve ne mostro un'altra Questa è sempre del brand Kali E' sempre quest'altra collana nera molto bella Da mettere sul collo Un po' Irregolare Un po' Esiste suono più perfetto Grazie a tutti. Ok? Prendo anche questo e me lo metto qui. Perché questi capelli sono un po' indestibili ancora. Volevo fare questi hand movements. Sapete che a me piacciono tantissimo. E a me piacciono molto sia accompagnati da questa voce. Ma visto che, visto che, visto che, ultimamente sto facendo molti mouth sounds. Tipo nell'ultimo video le risparmio perché magari farò un video dedicato. Però so che magari ad alcune persone possono anche dare fastidio. A me piacciono tanto. Anche a me piacciono tanto. A me piacciono tanto. E' bene. E' bene. anche questi e anche un po' il tracing delle mani altro suono onestamente mi fa impazzire impazzire sempre lentissimo perché per me i visual trigger sono qualcosa di molto potente io adoro vedere movimenti lentissimi quindi in questi video li vedrete sempre facciamo un po' di tapping lento no talking un po' di squish su questa custodia ultima cosa giuro sto per addormentare sui 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 se sui si sui sui Grazie. 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 un altro trigger che adoro magari ve lo farò sentire meglio in un altro video ma volevo solo provare a farlo per capire se anche a voi piace è quello del accarezzare qui ma su di te a 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 l'adoro come trigger ditemi cosa ne pensate e ve lo metterò in un altro video se vi piace ultimo trigger sempre di quelli un po' underrated un po' come si dice sottovalutati scusate scusate una cosa molto antipatica da fare ma davvero non mi veniva in mente a a fare brushing sulle immagini qui è il nuovo libro di Andrea Capodanno Cucurro io l'adoro e mi piace molto come libro ve lo metto anche giù in descrizione e guardate che figata sta cosa aspettate mi serve un pannello più morbido mi serve un pannello più morbido mi serve un pannello più morbido ad pot alle amici e att gu att 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 ok stupendo anche su un po' di immagini sapete che io amo i video di cucina quindi i libri di cucina veramente li vorrei tutti quelli di cucina vegetariana e vegana per me è sempre stupendo sfogliarli facciamolo anche su questo sarame di cioccolato bianco e pistacchi che voglio troppo provare facciamo che vi dedicherò un video così di tracing e brushing e presto ve lo prometto sono un po' scomoda adesso faccio l'ultimo lo vediamo e lo vediamo un po' scomoda e lo vediamo lo vediamo e lo vediamo quello che ti può fare è una parte E' un'altra cosa? Queste cose per me sono difficili così Allora Ultimissimo trigger Diciamo di questo video Voglio fare una cosa Che so che non tutti apprezzano Però a me piace tantissimo Piace tantissimo ascoltarla E una del mio preferito tra l'altro Che fa questo trigger E fa anche i video dedicati E' Mara Croft Mara Croft SMR Ciao Mara ti mando un bacione Ed è Una ninna nanna comunque Canzoni cantate Molto delicatamente Con il microfono E vi canto una buonanotte E poi direttamente vi mando una buonanotte Spero vi piaccia A me piace tantissimo Mi niña tiene sueño Bendito sea Bendito sea Bendito sea Joetecita Joetecita que corre Clara y sonora Clara y sonora No enseña orquen en selva Cantando llora Calas Calas mientras la cuna Se balancea Belanda Capitol Del contractor E crow Mi niña tiene sueño Bendito sea Bendito sea Bendito sea a la nanita mi niña tiene sueño bendito sea bendito sea bendito sea e yo pienso proprio pienso proprio pienso proprio pienso proprio 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 sea giunta 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 l'ora 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 di abbassare le luci e augurarvi augurarti augurare a te a te a te a te a te a te una buona buona buonanotte 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 oonanotte sonidoro 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 orro good night good night good good night good good night sweet sweet dreams sweet sweet dreams sweet sweet dreams buenas noches buenas buenas noches dulces sueños dulces sueños bon nuit bon nuit vete joyeure joyeure good night good night good night le ganache fatemi piccoli emoji al gelato ai miei tecli un bacione che li spera che li spera che pasi che pasi che pasi